...di scrivere un nome e se, come dire, voi riuscite a contattare queste persone, a convincere ad attivare questo nome, sarà molto difficile, perché io e lei siamo in Consiglio regionale, non siamo quelli che hanno, come dire, un partito dietro, anch'io sono Giovanni Ara un po' depresso, per mia fortuna, mi dispiace solamente di essere arrivato tardi per l'aperitivo o no, me ne farò una ragione, però davvero, rinnovole, invito a tutti quanti voi, grazie per essere qui, grazie per sostenere Daniela Vallini, è un'ottima candidata, sostenetela fino al 22 novembre alle 12.30, insomma, in modo che il 23 mattina tante persone possano andare a votare e scrivere il nome di Daniela e ovviamente anche il mio, perché altrimenti il voto è il rumo, ve lo dico, grazie a tutti. Grazie